Maurizio, mi rispondi? Maurizio? Ha sentito? Ho sentito, ho sentito. Ma che vuole che sia? Continua a chiamarmi. Questo è Stolking. E chi è Stolking? È la macchina tua. Guarda che è andata peggio a lei. Si è rotta una, radio è il Malleo. Te lo devo dire, qua tocca amputare. Paolino, dimmi perché. Perché? Perché quando c'è ad amputare, c'è ad amputare. Non sto scherzando. Smettila di fare il clodino di me perché non posso parlare con Maurizio. Ma perché non mi rispondi? Maurizio, io lo so che mi stai sentendo. Io con te non ci torno, capito? Non ci torno! Non ci sono nuovi messaggi. Che succede? È chiamata un'ambulanza. Lasciate fare a me. Come si chiama? Nadina. Ecco, qualcosa si sta cuocendo. È un pub cuocio, non è normale. Ti vedevo che la bacchetta è rile. Uno come te, con uno come me. Meraviglioso. Me lo spieghi che cazzo senti tu con quella quintessenza di femmina? Fate una copia di questa fotografia e distribuitela a tutto il personale. Questa donna è una mina vagante, capace di fare danni anche quando non c'è. Scusa. 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 Ma chi sei che hai questo tempismo? Pronto? Ciao Maurizio, sono io, sono Marina. Papà fangula! Scusa. 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 Scusa.